La casa, sì, con le porte di mezzo Jesse No, vabbè, niente, porca puzzola Che c'è? Che succede? Si sono rotti, monitor, come fai? Ebbè, certo, è incubo, è così Ma no, dai, non mi piace Voglio tornare indietro Prenda il termometro, può sempre servire Ecco Eh no, ma io non voglio questo, però Voglio, vabbè, sì Guarda che io comunque preferisco quello Sì, il termometro Quello vecchio è più bello Io non vedo la torcia Lasciate una torcia Che lasciamo Lasciate una torcia, che sta una torcia qua De quelle vecchie, perché non l'hai presa quella nuova? No, io vedo solo la prima Scrausa Eh, io una ce l'ho, tu Len ce l'hai una? Io ce l'ho Ops, è cascata la telecamera Vabbè, prendo questo Capito Vedete quella che c'ho io Sì, la vedo, la vedo Allora, che hai preso tu, Dev? L'MF Eh? Possiamo fare due obiettivi E che piglio più Doz La telecamera l'avete presa? Sì Qui dobbiamo essere chirurgici, eh Se sta sotto siamo morti, ve lo dico Per andare bene dovrebbe sta qua Speriamo Speriamo che sia qua L'MF ce l'hai tu, Dev? Io intanto questa la mollo qua Mo capita un demonuccio Eh, via a me L'abbio vista Perché questa poi è la sua casa preferita Oh, via l'imperatura è bassa, eh Infatti Via l'imperatura è bassa, ragazzi, eh Eh Oh, c'è la tavola Si, lasci Fai la foto Fai la foto Ah, io? Dov'è? Nel garage Dove? Lì, lì, lì Ah, ok Ok, l'ho sentito È sotto sopra L'ho sentito e mi preoccupa Perché mi sa che l'ho sentito No, guarda, guarda, guarda L'osso dove è Ecco l'osso Fatto Non so se l'ho sentito in basso Eh, sta qua però, eh, ragazzi Ho visto la nuvola Anche secondo me è sta qua Ecco, Dev che tira l'acqua Giustamente Allora, questa qua dovrebbe Averlo Fatto Adesso mettiamo questa qua Ok La temperatura è stranamente bassa C'è niente fuori posto? Per adesso no No Ma Eh, il numero massimo di questo Ho sentito un rumore Il numero massimo di questo termometro Quanto è? Scusate Eh, la temperatura massima Eh, 15, 20 Quanto è? Eh, penso 15, 18 Non lo so 24 Perché qui siamo tra 8 e 9, eh Tra l'ingresso e la cucina No, è troppo Eh, però non è alta Quindi vuol dire che Cioè, potrebbe significare che C'è temperatura Non mi impasticherei comunque Vabbè, damma Se lascio qua il termometro Ci siete? No, ci fanno Anche Non possiamo sapere Non siamo Inutile, sì Infatti, vedere tutto Eh, vediamo Ah, 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 ah Già impasticcato Allora Eh, il dolce Oh, vuol dire che sta giù Vuol dire che? Sì, beh, può cambiare stanza Agli incubo, eh Ah, però mi sa che ha aperto la porta Quella porta l'avevate chiusa voi? Eh, non mi ricordo Eh, non mi ricordo La porta per il basement Teniamo un attimo sotto controllo sta porta Io metterei pure una telecamera giù Dici? Però non posso prendere Com'è possibile? Oh, ma fallo Deve avere la mano libera Deve posti? No, no Deve avere la mano libera Mai È così No, non puoi cambiare mentre Devi proprio portarlo, è così Però puoi metterci già sulla telecamera Sì, è meglio, Dev A meno vai lì e la butti per terra, hai capito? Dobbiamo anche purificare con l'incenso Però ancora non sono molto sicura di dove sta Andiamo? Andiamo, andiamo Eh, aspetta, che piglio, scusate Andiamo, che piglio? Tu prendi il... No, oppure il sale Eh, ma dove metto che non so dove metto Eh, aspetta, mi... Mi pazzicco pure io? Sì, sì Ok, prendo il sale Ma stava giù il generatore Eh, mi pare di sì Non c'è, al garage non c'è Guardate mentre passate Se trovate qualcosa fuori posto, eh Dove sta l'MF? Qua l'avevamo messo Qua, qua, eccolo qua, per terra Ah, no Eh, ma guarda che la nuvola sta qua, ragazzi Aspettate un po' Fatemi vedere Eh, sta qua, oh No, qua sta una porta aperta Oh La sveglia, la sveglia Qui, qui, qui Abbiamo sbagliato tutto Sta dentro questa stanza Ah, ecco Abbiamo sbagliato tutto Vabbè, abbiamo sbagliato Magari ha cambiato stanza Eh, ha camminato Secondo me ha camminato Io l'ho messa giù Dobbiamo andare a riprendere il sale Io sento rumori Andiamo a prendere Vado a prendere il libro Ah, ha acceso la radio Non l'ho preso Vado a prendere il libro E che posso prendere? L'altro sale Ho lasciato la sparafrescia in cucina Len Ah, e che fa? Eh, non te ne andrà Stai dentro almeno tu No, un attimo Sto facendo Aspetta Sto prendendo questa E la sto portando di qua Per vedere se Eh, certo Potevamo prendere Vincenzo Però, eh Maggia Ok Ma quante mani ci vogliono Ok Eh, mettiamo questo Boh, qui Ma perché qui? Prendi il termos 3 Ma non sta qua Eh, sì Ma dove? Ha buttato la tazza pure qua, regà Eh, si sta Sta facendo cose in giro Aspetta che Non ho gli sparaflescetti Eccola No Non ho gli sparaflescetti Aspetta E dove stanno? Eh, qua, qua, qua Qui ce l'impronta Dove, dove? Dove? Qua Eh, no No Io sento vari lamenti Lamenti? Ah, no, è la radio Ah, aspetta Cioè, noi siamo dentro da una vita Fra un po' questa attacca, eh Right on the book, please Vado a prendere il termometro Right on the book Io me ne asquaglio Due, regà, due Qui c'è temperatura Ma due però è un po' troppo alta Oh, oh Via, via, via Scappa, 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 scappa Andiamo, andiamo, andiamo Niente Se l'ha sfiatato Allora Mamma mia I bradi Mi tutti a me, oh Mannaggia Eh, più che metterci lì a guardare Abbiamo Siamo stati lì un sacco Non c'è verso Speriamo passi nel dots O che scriva sul libro Magari ha scritto mentre noi venivamo qua Eh, ma lei quanto è catastrofica però Eh, oh Ma niente prove quindi? Nulla di nulla? No Io mi impasticherei e userei la spirit box Prego, prego Comodatevi La tavola Ouija Beh, fai con la spirit che è una prova Ma c'è la tavola Eh, sì, sta in garage Però è capovolta Quindi non la userei perché porta sfiga Così Ah, da cazzo me l'ho detto Allora vado Mi mola Eh, vada C'è anche da Poi dopo c'è da Mi tratti una Una torcia bellissima Senti, controlla Sì, aspetti Ah, mi avete Eh, beh, controlla il libro pure Termometro l'avete lasciato? Eh, no, sta qua Sta qua Dove, dove? Ce n'è uno qua per terra Quanta roba C'è anche da purificare l'area Però finché non siamo sicuri Niente più No, volevo venire io Ma non sono ancora sicura di dove sta No, ma quante cose ancora che dobbiamo fare? Eh Eh, anzi che ho portato il libro Comunque la temperatura Siccome è 2 Potrebbe essere Che poi si abbassi Capito? Lì dentro A quella stanza Era 2 Il libro controlla, Dev Non ho scritto Ok Sei qui? Oh, ho alitato Anzi, alita Sei qui? Dove sei? Comunque è sempre la bambina Sì? Ma che vista? Ah, sì Ma io non l'ho vista Ma perché non ha l'ombra? Ma non è l'ombra? È un'ombra Era l'ho vista sicuro Sei qui? Sei qui? Chiedi quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? No, X Write on the book Sempre che sia Che sia ancora lì No, non risponde Se non risponde Non risponde Potrebbe essere anche qui all'ingresso Perché qui aveva buttato una tazza All'ingresso di questa stanza Vedi che c'è una tazza per terra C'è la nuletta qua davanti Però ammetti che si sposta proprio E la porta dell'altra stanza aperta Io metterei una telecamera all'ingresso Vabbè, però quando è così È veramente Allora, a incubo una prova la nascondono Eh Ma qui ce ne si nasconde tutte Eh sì Chi ce l'ha gli sparaflescetti? Come siamo messi? Eh, mi sa io o no Li ho buttati E li ho buttati lì davanti Sì Perché ci sono altre impronte sul sale Però io devo venire a purificare l'area E quindi entro Ti avvi una candela? No, fa niente Proviamo Sara, se puoi Eh, di Piglia la cosa La sparaflescia Ma no, ma Ma come la sparaflescia? Ma ce l'ho io la sparaflescia? L'hai? Sì, ma adesso mi fate prendere però così No, no, no No, no, usciamo Usciamo tutti Aspetta che vedo il libro Non ho scritto Termometro dove sta? Eh, mi pare fosse in quella stanza No, manca il termometro Che palle Hai purificato l'aria, Len? Sì Allora è quella Sì Quella è la stanza Allora Esci, esci Dime che ti prende Aspetta che chiudo Che devi chiedere? Mi pare che ho sentito le merda Posso manco vedere il grafico Ah, il termometro è qua, guarda Ah, ok Salute Grazie Salute Niente, non fa niente Non fa una ceppa Non mi provi Niente proprio Anche questa Ma chi c'ha la torcia acceso? Io Io no Eh no, no Ma sta sopra Sta tra l'ingresso e le stanze Quelle due stanze Vabbè, almeno Perché cos'è? Una sfera di luce? Due obiettivi Ah no, è l'orologio È l'orologio che sta sopra Oddio, ho detto È un mazzo enorme E sta fissa proprio Niente Boh Vabbè A caso proprio Eh, non abbiamo manco la parola Metto l'ombra A caso Proprio una a caso Non ci abbiamo prove Va bene Vediamo un po' Aspetta Eh, ma non ci abbiamo prove Quindi Non ha risposto alla spirit box Sì, è l'ombra No, aspetta Io metto il my link Perché da soli non esce Ok Una partita fallimentare Eh 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 Questa modalità È l'incognita Oh, ho indubitato Oh, dai Ammazzo te Che cuore Eh, veramente Quindi farai un bel po' di punti Perché incubo sono dei bei punti Eh sì Bene Beh, abbiamo fatto un bel po' di punti pure noi Eh, dai Un bel po' di punti pure noi Grazie.